No asa de Genna Luasa, pustisi dessa delibera, de approbata po' parti dessa giunta regionali, subintitresi de Gustumesi e l'Ompia, fina se sa delibera numero 139, bocata dessa ex provincia de Carboni Igresiasa. Se ho fuori dendi de supermissio integravo ambientali, ultimo passaggio antesi de Fraigai, su de noi anelios dessa descarica de Genna Luasa. Necessari su pochissaportuvesme e Sarraella, noi boccia depositais a refutus industrialisi. Sa consigna de supermissio arrappresenta sa probata definitiva e subia libera po' maniai sa descarica. Sorunoua da tenni samatessi forma desatruso e ad essi longo 840 metruso e arto 5. Consilio Autonomia Localisi In Consilio Regionali Antifatti Selezioni si desu Consilio des Autonomia Locali, sei scomponentesi de Direttos, acciungenti quattro sindicos e ligiosi in su Collegio Unico Regionali, poi scomuno su compro de 10.000 abitantisi. Stefini De Luna, sa sindico de Guarto, Tomas Uloci, sindico de Pauli, e per Du Paolo Vila, sa sindico de Terralba. Pocarboni Igresiasi, seligiosu, poi scomuno su compro spago de 3.000 abitantisi, Funtilaura Cappelli, sindica de Buggerro, e Mariano Cocotti, sindico de Piscina, sa con otto e due votosu. Poi scomuno prumannoso e ligiosu Giorgia Limonda, sindico de Portescusi, sa votosu, e Deborah Porra, sindica de Bidda Mastracia, con due votosu. Noasa de Eurallumina, insora che si bince in T60D, si necessaria e se esaveriguata, sa poparti del suo servizio dei valori ambientali e de se ex provincia de Carboni Igresiasa, potrai scèda su questo progetto necessario a se Eurallumina potrai approdusi, luni si bintotto a in noi ora, sa in sabrazzanante, sa sessorau a Sambienti in via Roma e in Castello, doia dai sa assemblea generali. Sa vaina dei d'importo umano, vantisci straballadorisi, case vinta sa data e sa manifestata a nostra, tenisi intento di otteni de una borta, sa respusta che si serbidi. Posa ciungia sa manifestata, in Cilompi d'Ottosuvarisi in Castello, i straballadorisi, santa tovia in i distributori, saccante Sirai e in Bidda Mastracia, fora da Carbonia. Dattus de Confartesanau, crescintis impresa, se sa forti a sa esportazioni, 3.615 si impresa produsidorasa e 191 milioni si d'euros de prodotto subendius in su mundo. Custos il numero frunioso de Carmela Volchetti, presidente de Confartesanau Sardinia, numero positivo si ha commentato sa presidenti Mattessi, che deposa maniai e punnai a sagalità di a sa propaganda e a sconoscimento. Esprimo sei mesi di occh'anno, insieme a sa registratas avunti 3.615, in aumento de 5 unitatisi rispetto a su 2.015, in tamisi chise esportazioni, fonti lompi a sa a 191 milionisi de euros, aumentendi de 12 milionisi rispetto a irrilevata sa deantisi. Custo canto besiua pilludes, analisi vata des osservatorio de Confartesanau Sardinia, a suves artesanau alimentari esprodusi da sa des isola, che han elaborato i dati su de Union Camera e Info Camera e Istat.